Venerdì 8 novembre, buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, la faremo un po' sottovoce per cercare di garantire almeno di arrivare alla fine della rassegna con la voce, mi scuso con i telespettatori. Cominciamo dal Santo, vediamolo subito, il Santo di oggi è il Beato Duns Scoto, il sole è sorto alle 6.51, tramonterà alle 16.51. Andiamo a vedere il tempo, il tempo per oggi sarà perturbato perché avremo nei settori montani delle precipitazioni prevalentemente confinate sulle montagne, deboli locali invece durante la prima parte della giornata e sparse ma anche più intense nel corso del pomeriggio quando locali fenomeni potranno estendersi verso la fascia costiera. Le temperature, le massime saranno oggi in aumento per effetto di condizioni di garbino, quindi ci sarà un vento caldo e le temperature dunque saliranno. Avremo venti da sud, quindi moderato lungo la fascia costiera. Per domani il tempo sarà al mattino nuvoloso, in particolare in montagna, al pomeriggio la nuvolosità si estenderà anche nel resto della regione dove dal pomeriggio ci saranno domani precipitazioni sparse anche lungo i settori costieri dove in alcune situazioni localmente potranno essere anche piogge molto intense. Per quanto riguarda domenica invece non ci sarà pioggia, soltanto qualche residuo rovescio nelle primissime ore della giornata ma in esaurimento, quindi domenica avremo comunque una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso. Lunedì invece sarà una giornata discreta seguita da un probabile peggioramento delle condizioni del tempo. Subito i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico. In apertura abbiamo il piano di recupero che riguarda Pantano, torre di 9 piani e 40 metri nel buco verde di Pantano. Prima del piano di recupero i residenti dicono basta al degrado dell'area. Centropagina il problema di chi scrive sui muri. Denunciate e vi ripuliamo i muri. Chi è che invita a denunciare coloro che scrivono sui muri delle città? Regresso Arti. Regresso Arti è un'associazione che da sempre si batte contro coloro che disegnano, scrivono, imbrattano i muri. Contro i writer. E nel mirino adesso c'è Benzeno. C'è anche già un negoziante che a Pesero ha accolto questo invito di denunciare i writer e dunque ha sporto querela per gli imbrattatori. La pagina di Pesero del resto del Carlino. Caccia ai seggiolini e corsa all'acquisto da parte dei genitori. Sapete scattato questo obbligo per evitare le morti di questi neonati, questi bambini piccoli, molto piccoli che purtroppo sempre più vengono dimenticati nelle auto e quindi da adesso c'è quest'obbligo di legge che prevede di inserire nelle auto questi seggiolini fatti apposta che servono proprio per aiutare i genitori a non dimenticare i figli in auto e quindi il Carlino oggi punta su questo. Poi calcio e pugni tra donne in tribunale. Una violenta lite che è scoppiata per una vicenda di eredità, ferito un neonato che era in braccio ad una delle contendenti. Corruzione e terremoto nel comune di Ancona. Si parla solo di questo ad Ancona in queste ultime ore. A Palti Blef arrestati un funzionario e quattro imprenditori, indagate 30 persone tra cui quattro assessori e la fotonotizia è un fermo immagine di un'inchiesta che si chiama Ghost Jobs, lavoro fantasma, le intercettazioni che sono state filmate e poi la trascrizione delle cose che si sono detti, colui che doveva pagare e che dava soldi al funzionario. Qua un caffè te l'ho dato, mo ti do un caffè ag. Velocemente una delle tante pagine che sia il Carlino che il Corriere offrono questa mattina ai lettori di Ancona e provincia, ma anche di tutti quelli della regione perché sono comunque vicende che interessano tutta la regione. Cinque dicevole persone arrestate, una max inchiesta per corruzione dove è finito in carcere un funzionario, ai domiciliari invece quattro imprenditori, 30 indagati, ci sono questi quattro assessori, sono stati acquisiti i faldoni, nel mirino anche i dirigenti Cercelli, Ghiandoni e del Pesce. Anche il Carlino di Macerata punta sui seggiolini, incubo multe, dispositivi antiabbandono, sono obbligatori l'assalto ai negozi. La pagina di Fano, il nostro contesto è fumoso, si parla di sanità, il privato diventa sostitutivo, la CGL critica la regione contro la mobilità passiva, soluzioni diverse dalla clinica. Intanto il Carlino dalla Corriere si scopre che nei pronto soccorso mancano dieci medici, ce ne sono cinque in meno nei reparti pediatrici. Fondazione Cassa di risparmio di Fano, un patrimonio ridotto a causa delle uscite per la piscina, per gli investimenti si scende da 114 milioni di euro del 2020 a 110 del 2022. L'ente conferma gli impegni per Palazzo Zagarelli e per le associazioni culturali. Poi la notizia è che l'antiquariato, la mostra mercato che si svolge a Fano torna al Pincio, dunque il mercato sarà in due giorni, si torna all'antico, ripristinata la sede naturale dopo la felice riqualificazione del Pincio. Una moria continua di negozi, però nel centro storico di Fano sei nuovi cartelli di chiusura, in corso Matteotti gli affitti sono troppo alti, poi ci sono le tasse da pagare a fine anno, insomma non si intravede una strategia di contrasto, anche le associazioni di categoria come la Confesarcenti, non si capisce, secondo molti commercianti fa poco e non si capisce da che parte va. La categoria sollecita la mediazione della Giunta per i canoni e una menore pressione fiscale, ma gli esercenti sono un po' lasciati lì, soli. Fondi e risorse contro lo spaccio nelle scuole, Fano si è assicurate i 34 mila Euro del Ministero dell'Interno, saranno utilizzati per la videosorveglianza e la campagna informativa. Lotta alla droga e alla diffusione tra gli studenti delle città. Scoppia la lite tra due donne, intorno a mezzogiorno e 45, in tribunale a Pesaro, botte da orbi, due congolesi in azione, tutto è nato per una questione di eredità, colpito anche il neonato che era in braccio a una delle protagoniste. A Urbino invece si discute sull'abbattimento del Raffaello, è inutile abbatterlo secondo Michele Felici, che è un ex dirigente dei lavori pubblici del commercio di Urbino e dice fermatevi perché andrete soltanto a sprecare dei soldi. Dal buco verde di Pantano, siamo a Pesaro, partirà il piano di recupero. Novità urbanistiche per la zona che gravita attorno allo stabile ex Copredil, che è impacchettato. Il fulcro, la torre di nove piani, alta 40 metri, nel frattempo i residenti si lamentano però di tutto il degrado che ci sta attorno. E sempre a Pesaro c'è il problema dell'Eternit. Pesaro, a differenza di Fano, ne ha tantissimo ancora da smaltire. Qui parliamo di quello presente sul tetto di una ex falegnameria. La bonifica è in corso da dieci anni. Il comune fa pressing sui proprietari, cioè invita i proprietari a fare questa bonifica, anche se poi costa veramente delle cifre allucinanti, costa tantissimo. Vecchi incapsulamenti, tutti da rifare. E poi c'è l'ordinanza, che durerà un anno, che cambia la viabilità vicino al vecchio palazzetto dello sport di Pesaro, perché entrano nel vivo i lavori di recupero di questo palace. E dunque la viabilità cambia per un anno. La ditta GM di Fano ha chiesto infatti il restringimento della carreggiata su Viale Marconi. Quei baci troppo appassionati erano per scambiarsi la droga. Una coppia finita a processo, il trasporto nelle fusioni tra i due finanziati, nascondeva le cessioni di droga. I fatti risalgono alla fine del 2017. Ecco chi è Benzeno. Quello che fa questi disegni qua è che sporca i muri con questi disegni, con queste facce e quant'altro. Ebbene, i danneggiati devono denunciare e poi puliremo gratis i muri imbrattati. Questa è la condizione fondamentale sine qua non, per cui Regresso Arti dice noi agiremo solo dopo la denuncia dei proprietari. E Regresso Arti si scaglia contro lo street artist appunto Benzeno. E c'è già un negoziante del centro storico di Pesaro che ha sporto denuncia. Anche se tra Regresso Arti e il comune di Pesaro, a differenza di Urbino o Fano, non ha rapporti con il comune. Questo invece è il sit-in di ieri mattina di un gruppo di giardinieri che ormai da tre mesi non può conferire più il materiale raccolto, quindi rami e quant'altro, al centro di raccolta differenziata. Le richieste che fanno questi giardinieri sacrosante sono per continuare a lavorare, solo che Marche Multiservizi e il comune evidentemente non ha ancora dato risposte risolutive. I giardinieri dicono dateci una struttura per conferire i nostri rifiuti. Sulla pagina della Valle del Metauro da Fossombrone, urbanistica, un altro caso, il sindaco prende tempo, l'opposizione vuole chiaramente sui permessi per i lavori alla casa della vice Marcuccini e sotto invece la cronaca con tre appartamenti che sono stati visitati dai ladri nella giornata di domenica. Sono tre questi furti in abitazioni nella zona residenziale che sovrasta lo stadio comunale di Fossombrone. Dalla Valle del Cesano, ospedale senza garanzia dell'area disagiata, in regione passa un emendamento supergola, la sindaca dice sono preoccupata, l'opposizione annuncia e dice ve l'avevamo detto, ora era solo una mossa elettorale, Guidarelli sostenuta da Talè che presenterà un sub emendamento, in campo anche Fratelli d'Italia. Ancora dai giornali da Senigallia, siamo in chiusura, Eroina e Ashish, un pusher, uno spacciatore, alcuni spacciatori sono stati arrestati, si tratta di tre pakistani fermati nella zona della Rocca Roveresca, la droga era nascosta in una casa. E poi l'ultima pagina, sempre da Senigallia, allora intanto per quanto riguarda i parcheggi, gestore unico della sosta vogliamo semplificare. Poi sotto invece, guardate questa fotografia, è una gigantesca nutria che si era nascosta in un garage e quando i proprietari sono rientrati in casa, se la sono trovata di fronte, in casa insomma in garage, se la sono trovata lì di fronte e non sono riusciti a cacciarla via. Praticamente, scusate, l'altra sera è successo in un'abitazione in via del Campo Santo Vecchio verso le 19.30, quando l'hanno trovato hanno provato, immaginiamo con la scopa, con tutti i mezzi possibili a farla uscire, non ci sono riusciti. Così hanno chiamato i vigili del fuoco che, insomma, anche loro hanno faticato un po' e alla fine sono riusciti a farla andare via, a farla scappare. No farla scappare, l'hanno prelevata e l'hanno poi liberata in piena campagna, non l'hanno fatta scappare, l'hanno presa e l'hanno portata in piena campagna. E questa era l'ultima notizia. Scusate ancora per la voce, grazie per essere stati con noi, vi do appuntamento stasera alle 20.30 con il telegiornale. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS